Questo test dell'attenzione si fa con tre monete, ferro, rame e ottone. Se io prendo la moneta di ferro e la porto in tasca, nella mano rimangono rame e ottone. Questo serve abituare l'attenzione. Se invece prendo rame e ottone, è un attimo la frazione di secondo e l'attenzione è già ingannata. Grazie.